Il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa ospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Fiat volontà stua, singuti in cielo e in terra. Grazie a tutti. Padre nostro che sei Padre nostro che sei Come in cielo così terra, com'è il cielo così terra? Come in cielo così terra? Andrei, ti canto una preghiera, Quando anche il tuo figlio ci ha insegnato Amore, noi ti glori, fichiamo, noi ti glori, fichiamo, amè. Dal libro di cielo, volume 20, 19 novembre 1926, come la volontà divina sta agonizzante in mezzo alle creature e come vuole uscire da questo stato. Il mio sempre amabile Gesù, tirandomi nella sua adorabile volontà, mi faceva vedere e sentire le condizioni dolorose in cui lo mettono l'ingratitudine delle creature e sospirando di dolore mi ha detto, figlia mia, le pene della mia volontà divina sono inenarrabili ed inconcepibili all'umana natura. Essa sta in tutte le creature, ma sta sotto l'incubo di una tremenda e straziante agonia perché invece di darle dominio per farle svolgere la sua vita in loro, la tengono repressa senza dare libertà di agire, di respirare, di palpitare. Sicché la volontà umana agisce, respira liberamente, palpita come vuole, e la mia sta solo per servirla, per contribuire agli atti loro e stare dentro gli atti loro agonizzante, soffocata sotto il rantolo di una agonia di lunghi secoli. La mia volontà si dibatte nella creatura sotto l'incubo di un'agonia così straziante ed i suoi dibattiti sono i rimorsi di coscienza, le disillusione, i rovesci, le croci, la stanchezza della vita e tutto ciò che può dare molestia alle povere creature perché è giusto che tenendo loro una volontà divina in croce e sempre sotto il rantolo dell'agonia, essa coi suoi dibattiti li richiamano, potendo fare diversamente perché non ha dominio. Chissà che entrando in loro stessi, nel vedere l'infelicità che le porta la loro cattiva volontà, possono darle un po' di respiro e di tregua alla sua spasimante agonia. E' tanto dolorosa questa agonia della mia volontà che la mia umanità, che la volle soffrire nell'orto del Gezzemani, giunse a cercare aiuto dagli stessi miei apostoli, aiuto che neppure ottenni. E fu tanto lo spasimo che sudai vivo sangue e sentendomi soccombere sotto il peso enorme di un'agonia così lunga e tremenda della mia volontà divina, invocai il mio Padre Celeste che mi aiutasse dicendogli, Padre se è possibile passi da me questo calice. In tutte le altre pene della mia passione, per quanto atroci, non dissi mai se è possibile passi questa pena, anzi sulla croce gridai, Sizio, ho sete di pene. Invece, in questa pena dell'agonia della volontà suprema, sentii tutto il peso di un'agonia così lunga, tutto lo strazio di una volontà divina che agonizza, che spasima, nelle umane generazioni. Che dolore! Ne c'è dolore che può pareggiarlo. Ora, il Fiat Supremo vuole uscire, è stanco, ed a qualunque costo vuole uscire da questa agonia così prolungata. E se tu senti i flagelli, le città crollate, le distruzioni, non sono altro che i forti dibattiti della sua agonia, che non potendone più vuol far sentire all'umana famiglia il suo stato doloroso e come fortemente si dibatte in loro senza che nessuno ne ha compassione e facendo violenza con i suoi dibattiti vuole far sentire che esiste in loro, ma non vuole stare più in agonia, vuole la libertà, vuole il dominio, vuole svolgere la sua vita in loro. Che disordine, figlia mia, nella società, perché non regna la mia volontà. Le loro anime sono come abitazione senza ordine, tutto sotto sopra. La puzza è tanto orribile, più che cadavere putrefatto. E la mia volontà con la sua immensità, che non gli è dato di ritirarsi, neppure da un palpito di creatura, agonizza in mezzo a tanti mani. E questo è nell'ordine generale di tutti. Nell'ordine particolare, poi, c'è più ancora. Nei religiosi, nel clero, in chi si dice cattolico. La mia volontà non solo agonizza, ma la tengo in stato di letargo come se non avesse vita. Oh, com'è più dura! Perché nell'agonia almeno mi dibatto, ho uno sfogo, mi faccio sentire che esisto in loro, sebbene agonizzante. Ma nello stato di letargo c'è la totale immobilità, lo stato di morte continuato. E perciò si vedono solo le apparenze, le vesti di vita religiosa. Perché la mia volontà la tengo nel letargo. E siccome la tengo nel letargo, il loro interno sta assopito, come se la luce, il bene, non fosse per loro. E se qualche cosa fanno all'esterno, è vuoto di vita divina e si risolve in fumo di vanagloria, di stima propria, di piacere alle altre creature. Ed io, ed il mio supremo volere, mentre sta dentro, esce fuori dal loro operato. Figlia mia, che affronto! Come vorrei far sentire a tutti la mia tremenda agonia, il rantolo continuato, il letargo in cui mettono la mia volontà. Perché vogliono fare la loro e non la mia. Non la vogliono far regnare, non la vogliono conoscere. E perciò vuole rompere le dighe, coi suoi dibattiti, affinché se non la vogliono conoscere e ricevere per via d'amore, la conoscono per via di giustizia. Sicché la mia volontà stanca di una agonia di secoli, vuole uscire e perciò preparare due modi. Il modo trionfante, che sono le sue conoscenze, i suoi prodigie, tutto il bene che porterà il regno del Fiat Supremo. Ed il modo di giustizia, per chi non la vuole conoscere trionfante. Quindi starà alle creature scegliere il modo come la vogliono ricevere. Bene, anche questa mattina una splendida meditazione e profonde considerazioni sembrano a tratti drammatiche considerazioni da parte del nostro Signore Gesù. Oggi ci parla delle pene, della sua volontà divina, una cosa che a noi sotto certi punti di vista sembra strana. Come può penare la volontà divina? Eppure non solo Gesù ci ha detto che la volontà divina pena, quindi soffre pene, ma esse sono, attenzione, inenarrabili, cioè non si possono raccontare, e inconcepibili all'umana natura, cioè non esiste essere umano che possa farsi una rappresentazione adeguata delle pene che soffre la divina volontà. Tanto è vero che Gesù dà una ben specifica lettura di quella frase che gli uscì nell'orto del Gezzemani, che lui stesso interpreta in modi distinti anche se complementari, lo spiega anche nelle ore della passione, il senso corretto da dare a quella sua espressione. Qui dice che, appunto perché queste pene sono talmente grandi che non si possono sopportare, cioè tutte le atrocità della passione, tutte quante le sofferenze, gli insulti, gli obbrobri, ma questi non sono un grosso problema. Sulla croce ho detto Sizio, ne voglio ancora. Si vede quell'immagine di Gesù che viene crocifisso e la prima cosa segreta che dice, non ad alta voce, ma la dice al Padre, è più pene ancora, no? Quindi, di certo Gesù non ha paura della sofferenza, né di soffrire tanto per la nostra salvezza, no? Però queste no. Queste si possono sopportare. Queste non si possono sopportare. In queste pene dell'agonia della volontà suprema sentì tutto il peso di un'agonia così lunga. Una volontà divina che agonizza, che spasima nelle umane generazioni. Il motivo, ecco, adesso non ce lo possiamo rappresentare adeguatamente, però dobbiamo fare un piccolo sforzo. Noi sappiamo che la divina volontà è presente tutta e dappertutto. Cioè, supponiamo la vita di un essere umano abietto, poverino. Nel senso che, secondo le espressioni che lui usa nelle ore della passione, pecca all'impazzata. Cioè, la sua vita, come dire, è una continua produzione. Cioè, non interrompe un attimo di fare male su un male su un male. Non è che Dio sta dall'altra parte dell'universo, insomma, chissà dove, da lontano, guarda, come facciamo noi quando vediamo un paesaggio lontano, ci mettiamo la mano sopra la fronte per impedire al sole di accecarci e guardiamo in lontananza o col binocolo, no? Qualche cosa che comunque è distante. Non è così. Cioè, la divina volontà è dentro la vita, l'anima, il respiro, il palpito, ogni cellula del corpo, di quell'essere umano che vive in questo modo. E, cioè, capito? Cioè, vi sta dentro con quella capacità divina, cioè, di vedere l'orrore di tutto il male che quella povera creatura produce. Dice, quanti danni farà, quanto male produrrà, quanto male la farà stare. D'accordo? E non ci può fare niente, perché, diciamo così, secondo il nostro modo di pensare, no? Fermo restando l'onipotenza divina, che è chiaro che se volesse potrebbe fare qualunque cosa, no? Ma nel senso che, dal momento che lui non forza la volontà umana, ma la attrae, la spinge, la invita, la alletta, oppure in alcuni casi usa i metodi severi, ce l'ha spiegato, dice, ci sarà il metodo trionfante o il metodo di giustizia. Dà anche una lettura, no? A tutte quante le vicissitudini umane, a i flagelli, le città crollate, le distruzioni, cosa sono? C'è questo termine che ricorre, no? I dibattiti. Qui, purtroppo, gli scritti di Luisa, ecco, in queste traduzioni, diciamo così, dei libri elettronici, a volte, questa causa anche una non lieve difficoltà nella lettura, sono non perfette, diciamo così, da un punto di vista dell'italiano parlato, no? Non soltanto dell'italiano parlato, ma anche dell'italiano scritto. Se noi sentiamo dire dibattito, noi pensiamo ad un dibattito verbale, no? Pensiamo ad un dibattito politico, la classica cosa, no? Un termine legale è il dibattimento, quindi il luogo dove si dibatte è appunto quando in aula ci sta il giudice, c'è l'avvocato, c'è il pubblico ministero, l'interrogatorio dei testimoni, eccetera, questo, no? Ma qui non è, perché si capisce che cosa vuol dire, ma non è una parola traducibile correttamente, diciamo così, in italiano, neanche a me mi viene, no? Cioè, la volontà che si agita, quindi che si dibatte, però un conto dire si dibatte è un conto dire il dibattito, non è la stessa cosa, che si dibatte appunto in questa sofferenza del vedere la creatura lontana da lei camminare ininterrottamente verso il suicidio assoluto, d'accordo? e impedendole di svolgere la sua vita in loro e quindi di darle la felicità, il benessere, la pace, no? Qui ci sono dei richiami, ieri abbiamo visto, insomma, straccione pezzente e miserabile che vi è di volontà umana, ma oggi Gesù, come dire, cambia spartito, gira pagina, ma la musica è sempre la stessa, dice, chissà che entrando in loro stessi, nel vedere l'infelicità che le porta la loro cattiva volontà, io penso che se un uomo o una donna comincia veramente a farsi delle domande profonde, soprattutto la grande domanda, perché sono infelice? Da dove viene l'infelicità? Quello che tutti cercano è che quasi nessuno trova Bisogna confrontarsi con queste cose, non si può eludere a tempo indeterminato la domanda delle domande, continuare a vivere, come dire, in uno stato semivegetativo, lasciandosi trascinare, quindi non prendendo in mano la vita, le scelte di vita, gli orizzonti di vita, non c'è nessuno che può farlo, questo, al di fuori degli diretti interessati, cioè di ogni anima umana, io lo posso fare solo per me, tu lo puoi fare solo per te, nessuno può farlo al posto mio per me, nessuno può farlo al posto tuo per te, qui non ci stanno direttori spirituali, non ci stanno confessori, non ci stanno leader politici, non ci stanno papi, vescovi, chi volete, non c'è nessuno, d'accordo? Le grandi risposte, le grandi domande, noi dobbiamo trovarle nel nostro cuore, perché poi quando arrivano le grandi prove della vita, se le risposte non le trovate, tu soccombi, soccombi. Allora, qui Gesù spiega anche, no? Gli esseri umani, quando vedono sofferenze, croce, l'unica cosa che sanno fare, e è comprensibile, poverini, non c'hanno altro, è abbattersi, intristirsi, lamentarsi, addolorarsi, è successa questa disgrazia, è successa questa cosa, e adesso come facciamo? E speriamo che passa presto, in riferimento anche a situazioni di stretta attualità, no? Ma Gesù qui dà una luce, quella luce di cui abbiamo parlato anche nella precedente meditazione, dice, guarda che la mia volontà si dibatte nella creatura, e allora che cosa succede? Qual è l'espressione di questo suo dibattersi? Cioè, non è che la volontà divina rimane inerte, non soltanto soffre, ma cerca anche di portare la creatura a pensare, come sto dicendo, a dire, falla finita, smettila di campare in questo modo, sei tu la causa della tua infelicità, ti vai a costruire l'inferno con le tue mani, giorno dopo giorno, sei tu a farlo, non sono altri, non sono io, la vuoi smettere? Allora, a volte lo fa con le buone, altre volte come lo fa? Allora, i dibattiti sono, i rimorsi di coscienza, quante persone sono un sacerdote, una persona che viene da me a dirmi, guardi padre, io non mi vedo ammessa la domenica, ma io prego, perché sta dicendo questa cosa? Secondo noi? E' ovvio che io non mi metto né a giudicare né a fare niente del genere, ma perché sta dicendo questa cosa a me? Perché io sono un prete, quindi in qualche modo sono il rappresentante di Dio, siccome la coscienza gli rimorde, perché loro lo sanno che devono andare a messa, e che quello non è un'opzione, non è un comandamento, non è una cosa facoltativa. Allora, vedono me, che sono il rappresentante, e, come dire, si tacitano la coscienza giustificandosi davanti a me, ma io sono un povero uomo, certo sono un prete, sono un rappresentante del Signore, ma io non sono Dio, io sono un rappresentante, io sono l'amico dello sposo, non sono lo sposo. Quel rimorso di coscienza, se lo devono vedere davanti all'altissimo, capito? Ma io ho da fare questo, questo, questo e quest'altro, ogni tanto, quando qualcuno comincia a giustificarsi, gli dico, guarda, amico mio, stanno a sentire bene, tu non ti devi giustificare davanti a me, perché io ti voglio bene, d'accordo, e ciò, ho a cuore il bene della tua anima, ma la mia anima non appartiene a me, la tua anima non appartiene a me, la tua anima appartiene al nostro Signore. Al termine della vita, tu non devi rendere conto a me, di quello che hai fatto, devi rendere conto a Lui. Allora, metti lì davanti a Dio, ma tu perché non vai a messa la domenica? Che c'hai da fare? Eh, ma io qua, tutta la settimana, poi sono stanco, poi c'ho da fare questo hobby, questa cosa nel tempo libero, potevo fare di... Allora, tu pensi che quando ti troverai dinanzi al nostro Signore, metti lì nei panni di nostro Signore, se il nostro Signore sentisse quello che tu dici, ti direbbe, ah, va bene amico mio, ho capito, certo, c'erano delle gravissime motivazioni, quindi fa niente, pensaci tu, non te lo devo dire io, e non pensare che ti taciti la coscienza perché incontri il parroco e dirgli guarda non mi vedi, ma tanto mi prego il nostro Signore a casa mia, il parroco chiaramente non è opportuno che ti faccia la lavata di capo perché noi non possiamo andare avanti a rimproveri nel trasmettere la fede, quindi, che ti deve dire? Sta zitto, fa finta di non sentire, certamente non ti approva, ma tanto la coscienza ti continuerà a rimordere, i rimorsi di coscienza, il rimorso di coscienza è la voce della divina volontà in te che ti sta richiamando, questo è il rimorso di coscienza e noi non dobbiamo tacitarla alla coscienza, dobbiamo ascoltarla e imparare a farlo, ancora, le disillusioni, le grandi delusioni, ah, pensavo che quello fosse un mio grande amico, guarda come mi ha trattato, ah, pensavo che quella persona fosse affidabile, quel datore di lavoro, mi aveva promesso che mi avrebbe fatto il contratto a tempo indeterminato e poi mi ha sbattuto fuori, per dire, no? Le cose più gravi della vita, sembrava che fosse una bravissima persona, mi sono affidato, mi sono sposato e guarda come mi ritrovo, questo era mezzo delinquente, era una mezza delinquente, le disillusioni della vita, la sacra struttura al riguardo dice nel profeta Geremia con un termine molto forte che va ovviamente interpretato, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto l'uomo che confida nel Signore, non è che Dio lancia le maledizioni, ma ti sta dicendo, guarda che se tu poni nella carne il tuo sostegno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo che pone nella carne il suo sostegno, ma di chi ti vai a fidare? Ma che ti fidi degli altri esseri umani che sono fragili come te, che sono piccoli come te, che sono bisognosi d'aiuto come te, andiamo a fare gatte e la volpe, andiamo a fare, ma capito, non è che sono cattivi, ma sono fragili e sono deboli come te, che metti in loro la tua fiducia, ma come ti aiutano, che hanno bisogno loro stessi di essere aiutati? confida nel successo e fidi in questo modo, avrai una vita di maledizione, non perché Dio ti maledice, ma perché sarà una vita maledetta, sarà una vita brutta, sarà una vita piena di guai, piena di cose brutte, perché sicuramente le creature ti deluderanno, 100%, d'accordo? A meno che non incontri un santo o una santa, capito? Ma una santa è una santa, ma anche un santo è una santa, ha i suoi momenti di fragilità, perché non è il Padre Eterno, è un essere umano. Allora, i rimorsi di coscienza, le disillusioni, i rovesci, i momenti dolorosi, i rovesci, anche i rovesci di fortuna, io da tanta gente lo conosco, stavamo tanto bene economicamente, ma non si arriva alla fine del mese, è la divina volontà che ti sta parlando, sta dicendo Gesù, le croci, ah la malattia X, ah la malattia Y, ah il virus, ah questo, ah quell'altro, è la divina volontà che ti sta parlando, che si sta dibattendo, che ti sta dicendo falla finita, aprimi le porte del cuore, la stanchezza della vita, d'accordo? Quando uno dice ah non ce la faccio più, che brutta vita, la vita non è brutta, la vita è brutta dipende da come tu la vivi, perché se apri quel cuore a Dio è la sua volontà, vedi come diventa bella la vita, anche se, come dire, da un punto di vista apparente, delle cose che succedono, che hai, non sembra così entusiasmante, ma la vita non è bella a seconda delle cose che c'hai, Gesù Cristo, la Madonna e San Giuseppe, non ci avevano niente, tra poco e Natale, quello è nato dentro una stalla, non avevano neanche un posto dove farlo nascere, capito? se appena è nato non gli portavano il latte e le caprette a Giuseppe e Maria, ma che se mancano dentro una stalla abbandonati da soli, no? Ma se immagino gli portavano loro in scienza della mirra, ma quando sono andati profughi in Egitto, che non c'avevano neanche un tetto, ma che cosa se mangiavano, se lo saranno venduto loro, come hanno fatto ad andare avanti per i primi tempi che stavano lì, qui dobbiamo essere molto molto concreti, certo che poi San Giuseppe si è messo a lavorare perché Michele campava di reddita, ma non è che tu arrivi in un posto in terra straniera e domani trovi lavoro e cominci a far fadegname, quindi non dipende dalle cose erano felici o non erano felici Gesù, Giuseppe e Maria e non c'avevano niente, una povertà estrema, quindi la stanchezza della vita, tutto ciò che può dare molestia alle povere creature, tutto quello che noi fuggiamo, cioè i fastidi, gli imprevisti, gli inconvenienti sono tutte parole di Dio con cui ci parla continuamente al nostro cuore, figlio mio, falla finita, vieni da me, lasciati voler bene, lasciati trasformare la vita, non continuare a fare tutte le cose di testa tua perché ti troverai sempre peggio in un mare di guai, te lo dico per bene tuo, c'è la divina volontà che noi stiamo con lei, a lei ne cambia niente, cambia a noi, cambia, ecco, quindi questo è un punto fondamentale e, fortuna che manca poco alla fine della meditazione, dice questo, è in generale, dice, quindi tutte queste cose accadono perché la divina volontà vuole la libertà, il dominio, vuole svolgere la sua vita in loro, per il bene loro, e poi Gesù dice, che disordine figlia mia, nella società, dove non regna la mia volontà, allora, qui siamo nel 1926, siamo cent'anni fa, ma adesso la situazione è proprio precipitata a livelli allucinanti, cioè, la fede oggi non si sa più dove sta di casa, stiamo continuando a cadere, a correre all'impazzata verso il burrone, verso il bar, la truola, come voglio fare il catastrofista, ma, le loro anime, le anime di molti, nostri fratelli e sorelle, sono abitazione senza ordine, pensiamo quando entriamo in una casa, io ne ho viste qualcuno, tutta disordinata, tutta sporca, tutto sotto sopra, cioè, se mette uno, si mette le mani nei capelli, la puzza, è tanto orribile, non so se qualcuno che ascolta è mai entrato in una casa, fetida, dove è talmente tanto sporco che puzza, io, mica una volta sola, tra, come dire, tra i riflessi, diciamo così, tra gli inconvenienti del lavoro, ecco, di un povero parroco, c'è pure questo, cioè, più che cadavere putrefatto, e la mia volontà, con la sua immensità, che non si può ritirare dalle cose che ha fatto, neppure da un palpito di creatura, dice Gesù, non mi posso ritirare, perché una volta che la divina volontà una cosa l'ha fatta, lo sappiamo, e la conserva nell'essere, si trova lì, se la divina volontà si ritirasse da me adesso, io cadrei nel nulla da cui sono venuto, d'accordo, se per assurdo succedesse una cosa di questo genere, ed ecco, meno male che la meditazione è quasi finita, dice, questo succede a tutti, vogliamo andare in particolare, vogliamo, vogliamo parlare dei religiosi, vogliamo parlare del clero, vogliamo parlare di chi si dice cattolico, a cui non soltanto c'è l'agonia, a ma qui la divina volontà di Gesù sta in letargo, come se non ci fosse, una cosa terrificante, cioè, in coloro in cui dovrebbe rifungere, splendida, essere percepibile, moltiplicare il fervore, le opere sante, l'amore, che chiunque te incontra dice, ma che c'ha questo? Semplicemente perché è battezzato, e non è fatto chissà che cosa, i cattolici, un religioso, ancora di più, un religioso ha abbracciato Gesù, povero, casto e obbediente, cammina verso la perfezione, si è liberato di tutte le zavorre del mondo, beato lui, un prete, che può celebrare la messa, che può stare a contatto col Signore, ha una chiesa a disposizione dopo andarci quando vuole, può pregare quanto vuole, amministra i sacramenti, sta a contatto con le cose di Dio, ma non vuoi essere la persona più felice del mondo, ma dove stanno, dove si vedono queste cose? Certo, qualcosa c'è in giro, ma non è la maggioranza, purtroppo, e dice Gesù, questo è peggio dell'agonia, che mi fanno vivere tutti quanti, perché almeno nell'agonia, uno si agita, si divincola, si inventa qualcosa, questi proprio, mi hanno anestetizzato, questi mi hanno messo in letargo, il letargo che devi fare, nel letargo si dorme, nel letargo si dorme, e quindi, buonanotte a tutti, il letargo in cui mettono la mia volontà, e qui ce l'ha con noi, con me, con chi ascolta, perché è battezzato, se ci sarà qualche suora, qualche frate, qui ce l'ha con noi, e allora dobbiamo chiederci, ma io non è che metto in letargo la divina volontà, che la faccio dormire, attenzione, se la faccio dormire, o se la faccio agonizzare, quindi, sono due le possibilità, allora, il nostro signore farà due cose, guarda, siccome io per il bene, non mi rassegno, d'accordo, certamente che poi, quando una persona respinge la volontà divina, fino alla fine, c'è solo che la dannazione, ma il signore, fino alla fine, non si rassegna, ci saranno due modi, ci sarà il modo trionfante, quindi il modo bello, quindi, che è quello preferito, dal nostro signore, quindi, aprirai il cuore, ti lascerai amare, comincerai ad aprirti alle conoscenze, ai prodigi, a conoscere, e quindi poi a scegliere, amare e a vivere, oppure, ci sarà il modo di giustizia, tutte quelle cose che abbiamo visto, quindi, con comprese, distruzioni, flagelli, città crollate, nel grande, oppure, quelle cose che abbiamo visto nel piccolo, nella vita quotidiana, quindi, le abbiamo viste, quindi, contrarietà, croci, rovesci, stanchezza, disillusione, rimorsi di coscienza, eccetera, eccetera, se, come dice Gesù, nel Vangelo, il modo buono fallisce, e il modo cattivo pure, che cosa ci resta, lo possiamo concludere facilmente noi, no? Il Vangelo di qualche giorno fa, durante la liturgia, abbiamo suonato il flauto, e non avete ballato, quindi, il modo buono, abbiamo intonato il lamento, e non avete pianto, il modo severo, che altro dovevo fare, canta la Chiesa, nella liturgia del Venerdì Santo, nei lamenti del Signore, dice, ma dimmi tu che cos'altro avrei dovuto fare, e non ho fatto, vediamo un po' se siamo capaci di, di dirlo al nostro Signore, no? Ecco, speriamo però, ecco, che, noi, non facciamo agonizzare, la Divina Volontà, né la facciamo stare in letargo, ecco, ma la facciamo vivere, la consoliamo, la rallegriamo, dando le carta bianche nel nostro cuore, e la facciamo operare, non la lasciamo inerte a dormire, per poter portare in noi, e intorno a noi, tutti i prodigi, e le meraviglie, di cui, solo lei, è capace. Grazie. Grazie. Bene, Santa Vergine Maria, ringraziamo il Signore di questa meditazione, certamente dolorosa in parte, quindi, dove lui ci ha portato dentro il suo cuore, scuotendo forse anche un po' le nostre coscienze, siamo noi purtroppo la causa delle agonie o dell'etargo della Divina Volontà, chiediamo il tuo aiuto, la tua intercessione, come sempre, ecco perché tanto, tanta grazia, tanti doni, insomma, che il Signore ci dona, non siano sprecati, ecco. Tu a Fatima, dicesti a, a uno dei pastorelli, dice almeno tu, almeno tu, ecco, quella almeno tu, ecco, possa risuonare nel nostro cuore, e, possa svegliare, scuotere le nostre coscienze, e spingerci ad aprirci a tutto ciò, di bello, di buono e di santo, che il Signore dà, solo, ma semplicemente, a chi desidera da Lui, e riceverlo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.